Appuntamento con i quarti di finale di Coppa Italia di Serie C, arriva al partito a Lombardi da Lucchese, si giocano dunque 90 minuti di fuoco. La Coppa Italia è un obiettivo dichiarato dai lupi che affronteranno i toscani che nel corso della competizione tricolore hanno eliminato la Juventus Next Gen nell'ultimo turno per 3-2 tra le mura amiche, ma prima avevano estromesso dalla corsa l'Arezzo e la Spalb, tutte in trasferta al Mazza per 2-0. Anche per i rossoneri di Gorgone dunque la manifestazione interessa e come? Il cammino al partito a Lombardi da Lupi fino a questo momento è stato esaltante, Tris di Vittoria contro Monopoli, Foggia, Juve e Stabbia, 7 gol fatti e 1 subito per i lupi di pazienza che puntano contro i rossoneri decisamente al poker. Tra le curiosità che vedono il match saranno due i ex della contesa, Beppe Guadagni attaccante classe 2000, arrivato a due stagioni paio in Irpina dalla Paganese che si era messo in luci in precampionato ma che il mister Taurino prima e Rastelli poi hanno preso poco in considerazione e poi c'è il collaboratore tecnico Giorgio Santarelli che in Irpina è passato nei primi anni 2000 con il mister Auteri in panchina e San Zogni poi, poi per lui anche un gettone nell'Avrino di Bullo che trionfò nella stagione 2002-2003. Per quanto riguarda invece i precedenti avrino d'Uccese si sono affrontate sei volte quasi sempre in B, l'ultima volta nel campionato 1995-1996 al partito ai Lombardi campi lungo stessi rossoneri dell'allora bomber Roberto Paci. Al partito ai Lombardi le altre vittorie memorabili sono state ottenute dai Lupi nella stagione 91-92 quando il 3-2 finale fu deciso da Bonaldi. Chi passerà il turno attenderà nella semifinale la vincente del match tra Pescara e Catania.